LM Seramenti nasce nel 1936 a Vittorio Veneto come fabbrica di infissi in legno. Attualmente ha 23 dipendenti e lo scorso anno nel 2009 ha prodotto circa 9.000 infissi in legno. La commerciale friulana è nata circa a 5 anni or sono per seguire in zona la commercializzazione, la posa e tutto quanto concerne la vendita dei seramenti. Cerchiamo di abbinare a tutto questo anche la commercializzazione di prodotti alternativi come sono le porte, le porte blindate, zanzariere ed infissi in genere. Nell'ultimo periodo i tecnici di LM Seramenti hanno cercato di sviluppare ulteriormente la tipologia tecnico-costruttiva dei seramenti stessi in maniera tale da poter soddisfare tutte le richieste che ci giungono dal mercato, nella fattispecie un ulteriore abbattimento acustico ed un miglioramento nelle prestazioni del coefficiente di trasmittanza. Grazie a tutti!